E' l'ultima cosa che avrei fatto, se avessimo potuto discutere la faccenda in pubblico. Puoi starne certo. Non è un'accoglienza molto carina. Non dimenticare che devi conquistare il mio silenzio. Conquistare o pagare? Ecco qui. Ehi, non scherzi piccola. 50.000 dollari? Esatto, non è la cifra che mi avevi chiesto. Spero solo che per una volta tu mantenga la parola. Come hai fatto a procurarti tutti quei soldi? Questi sono affari miei. Ma se insisti, diciamo che ho avuto un colpo di fortuna. Senti, ti faccio una proposta molto ragionevole. Potrei accettare te al posto del denaro. Non toccarmi, sono stata chiara. Non mi avresti mai parlato così prima. Prima di cosa? Prima che quel Tony arrivasse qui. E questo non mi piace. Me li ha spediti via fax un tale. Uno con cui sono in affari. Puoi prenderteli. Quanto a me, puoi far conto che non li abbia neanche visti. Sta tranquilla. Prima i soldi.